Il latino ti incuriosisce? Magari sei da sempre appassionato e occultore di questa lingua antica? O forse devi affrontare esami universitari che un po' ti spaventano? UPAD può venirti incontro, lasciando il proprio nominativo in segreteria e spiegando brevemente la motivazione di un'eventuale iscrizione e possibilmente anche giorno e orario in cui si sarebbe interessati a frequentare, è possibile attivare un corso in grado di soddisfare le vostre esigenze. Non perdete l'occasione quindi di affrontare in mia compagnia, io sono Silvia Maurelli, lo studio di un idioma ricco di fascino, utile anche nella pratica quotidiana del sapere nell'italiano e nel fornire anche ottime basi per eventuali studi di lingue straniere. UPAD e Silvia Maurelli quindi vi aspettano per informazioni e consigli. A presto!